Il 2022 per il mercato immobiliare in provincia è stato un anno più che positivo con numeri di compravendita e prezzi in rialzo. Le tendenze del settore sono state presentate dal collegio lucchese FIAIP, Federazione degli agenti immobiliari professionali, che ha evidenziato la vivacità del comparto zona per zona. L'esame di ogni singola area rileva una crescita nel numero di transazioni coincidente in linea con il dato medio provinciale di Lucca Capoluogo. al più 18%. La casa più richiesta è quella indipendente, quella con il giardino, quella con il terrazzo, tendenzialmente con pochi lavori da fare, visti anche poi le incognite che potrebbero essere quelle di affrontare una ristrutturazione. Capitolo prezzi, la quotazione media in provincia è di 1.400 euro al metro quadro, 1.850 nel capoluogo, 2.600 in Versilia, mentre il valore più basso si riscontra nella macro area della Garfagnana. Da sottolineare che il fenomeno di maggior peso nell'ambito delle compravendite è legato al mercato abitativo turistico, che nelle aree di interesse stagionale vede prezzi fortemente in crescita. Locazione breve, locazione turistica che sta prendendo sempre più piede, pertanto anche chi volesse fare un investimento di questo genere sono sicuramente graditi il centro storico di Lucca e Versilia per mettere a reddito i propri risparmi.